Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road, edizione agosto 2020, allerta meteo. Parliamo di un'allerta meteo elevatissima, di un rischio gravissimo, l'allerta meteo arancione. L'allerta meteo arancione viene rilasciata quando c'è un rischio di fenomeni meteorologici intensi e particolarmente diffusi all'interno del territorio provinciale. Può riguardare una pioggia molto forte, può riguardare vento molto forte, può riguardare una nevicata molto forte, una grandinata molto forte, etc., può ricordare fenomeni elettrici. Può avere a che fare con più fenomeni contemporaneamente o con solo un fenomeno. A febbraio del 2019 abbiamo avuto un'allerta meteo arancione che poi è diventata rossa solo per il vento fortissimo, abbiamo avuto raffiche di vento qui a Siracusa che sono arrivate quasi a cento chilometri orari, ma dopodiché non è che c'era pioggia o c'era altro, eppure il vento a quasi cento chilometri orari ha fatto una quantità di danni allucinante, quindi un'allerta meteo può significare tante cose, non necessariamente che significa esclusivamente pioggia. Un'allerta meteo arancione è un'allerta gravissima, è un'allerta per condizioni meteo particolarmente avverse, dove possono essere causati moltissimi danni. In presenza di un'allerta meteo arancione per pioggia è sicuro che i piani bassi degli edifici o i cantinati potranno finire allagati, è sicuro che tutte le zone basse come cavalcavia o sottopassaggi rischiano di allagarsi, quindi già è una situazione che richiede di essere affrontata in maniera molto ben precisa e molto ben pensata. Infatti già in presenza di un'allerta meteo arancione è probabile che il sindaco possa prendere la decisione di chiudere le scuole e gli uffici pubblici, è molto probabile che il sindaco possa decidere di inviare gli sms di avviso alla popolazione, di restare in casa, di chiusura delle scuole etc. In presenza di un'allerta meteo arancione è possibile che il sindaco decida di aprire il Cocchi, il centro operativo comunale, di mettere in funzione la macchina della protezione civile, in maniera tale da poter affrontare la situazione nella maniera più veloce possibile, ma soprattutto in presenza di un'allerta meteo arancione la situazione è molto grave. Possono esserci incidenti gravi, possono esserci importanti interruzioni nella rete stradale, possono esserci importanti interruzioni nei servizi come la corrente elettrica, il servizio telefonico, possono esserci grossi problemi a livello di viabilità stradale, possono esserci grossi problemi a livello di logistica, ed è estremamente pericoloso uscire di casa in presenza di un'allerta meteo arancione, è il caso dove possibile di restare in casa e di evitare l'uscita di uscire solo per motivi strettamente indifferibili. Inoltre, un'allerta meteo arancione può riguardare un territorio molto ampio e con un eventuale peggioramento delle condizioni meteo, è anche possibile che nel corso delle prime 24 ore l'allerta possa peggiorare e diventare un'allerta meteo rossa, che vedremo nel prossimo episodio, che è una situazione ancora più grave. E già considerate che un'allerta meteo arancione è una situazione gravissima, pericolosissima, con gravi rischi di danni alle infrastrutture e agli edifici, e quindi con gravi rischi per la popolazione. Bene, io sono Grizzly e questo era Diario di Viaggio on the road, edizione agosto 2020, all'erte meteo, con questo caldo cerchiamo di pensare a qualcosa di fresco come alla pioggia. Scherzi a parte, spero di essere riuscito a esservi utile, se ce l'ho fatta come sempre pollice in alto, condividete il vlog, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo domenica prossima con la situazione più grave di tutte le allerte meteo. Per ora, ciao a tutti!